No no aspetta no no... Ciao a tutti ragazzi, io sono Rocky Random e sono qua KON Di PRE PA URA Per una volta che giocavo tutti insieme ragazzi Guarda che forte che sono ragazzi, io me ne sbacco, ma quello li è copiato dallo stregone è perso vero ammazzalo spara ce l'ho fatto per voi ho fatto per gli iscritti non ci regali emozioni sei scarso non sei più lo youtuber di una volta ma vuole morire ma porco come vedete ragazzi sono fortissimo ma come è possibile ma cosa tirano quelli lì sei fortissimo sì ma ho fatto due passi quello lì lo sciocco come una sottiletta vai 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 sì sì ciccio panzer sì così guardate guardate come scippo tutte le gemme ma scappa sì vabbè è morto voglio proprio vedere ma vao ma ci è buttato in mezzo alla gente ma mi pare che sia meglio fa la posta ma anche oh no l'ho soccata quella lì lo socca oddio che no che lo stava la gamba probabilmente sì visto ragazzi come si gioca guardate che è il migliore sei fortissimo no ti sei ucciso tre volte tutti ironici però poi ehi su ma perché non ti uccidi mai un attimo porco vai 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 guarda quello là che è morto adesso adesso lo prendo da lì sciocca lo sciocca cavolo ma era morto no grazie è una persona una persona squisita ragazzi ma non muore mai no sei morto no è vero oh strano tuo fratello sai che ho un fratello vero ah sì è vero ah ma non è non è un tipo eh la torretta la muori muori stronzo mi vengono tanti di quelli perché ragazzi io gioco solo per divertirmi non per dai io dobbiamo vincere se perdo la scommessa devo buttarmi sotto un treno io ci ho provato BD ma sono da solo lì sono da solo contro due parco è meglio o è peggio di Clash Royale questo gioco diciamolo se sei un nerd è meglio se no no perché perché non è un casual game ci devi giocare con due mani diciamola sta cosa che è la cosa peggiore di questo gioco per forza con due mani non si può giocare con una Clash puoi giocare con una puoi giocare mentre mangi mentre respiri mentre vivi mentre dormi ma è questo buono qua buono si così si così si così vai che lo sciocco bam adesso questo qua adesso il robot il robot il robot il robot il robot bam vai 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 che l'ho preso no beccati questo dai dai vienimi ancora vienimi ancora in faccia vienimi in faccia vienimi in faccia vienimi in faccia vai 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 è più forte vabbè cappalicius che vorrei a lei ragazzi no stia sbiascizzando ma perché sto mangiando un cacomera beh intanto ammazzo punciola prendiamole ste gemme eccolo li eccolo li lo so lo piglio sto strong vai che difendo io vi difendo cheat vai che vi difendo io via 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 ma voi dovete scappare e chi è il migliore quello che ne aveva di meno il migliore cioè qua praticamente il giudicolo in base a quante persone uccidi guardate ragazzi pino sbarazzino ma tu vai suicidarti ogni volta io vi consiglio ragazzi di non giocare questo personaggio perché questo è solo mio lo uso solo io perché è troppo forte io spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi dai su un'altra pronto io sono ma cosa ti preghi tutte le gemme non ne prendo una voglio adesso arriva guardate 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 il vostro il vostro youtuber preferito cioè Favij perché non va la connessione connessione perché lo socco soccato aiuto arrivo Tri ma soccato arrivo dai Z che ci ha rubato tutte le gemme dai pochissima vita chi è che ha pochissima vita? io dai vai 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 ma porco no vai 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 che pochissima vita si ma fate pietà ma cosa sei dubbolo morto si ma ve l'ho portato lì era facile lì da zannare dai porco gioco di melma disinstalliamo colpa di Z che è scarso sì assolutamente bene ragazzi per questo video è tutto io spero che vi sia piaciuto votate nei commenti il migliore di questi match come sempre ragazzi ci vediamo nel prossimo video nuovo evento ciao ragazzi ciao